Si si, abbiamo fatto partire Ciao Youtube! Ciao Bel! Oggi parliamo di Catania Linea Vediamo la 70 KV Stacchiamo il verzo Una pompa da 4.000 litri Con una termopompa da 300 litri A casa del buon Francesco Manca mio fratello Manca anche Paolo, preferito Si chiama Paolo Si chiama Paolo Si chiama Paolo Si chiama Paolo Ciao Youtube!